travel party number 3 21 giugno gradi percepiti sotto lo stand media e comunicazione 87 ma siamo qui in compagnia di una delle band che suonerà questa sera sul second stage di sherwood festival oggi travel party con obos belzebit voyotech e confine ma abbiamo la possibilità di interfacciarci subito con gli obos direttamente da venezia cito da wikipedia un obo è un vagabondo che adotta in maniera tendenzialmente volontaria uno stile di vita senza tetto improntato alla semplicità al viaggio all'avventura alla ricerca interiore alla marginalità svolgendo talvolta lavori occasionali quanto vi riguarda questa definizione e perché avete scelto di chiamarvi così allora detta così è un po troppo poetica diciamo diciamo che andiamo in giro a suonare per le birre per far festa semplificata però no a parte gli scherzi ci è piaciuto un sacco l'idea è partita da dal nostro vecchio gruppo saider quando è partito chitarrista è andato a fare la vita di strada suonare per strada e da lì è partita l'idea di trasformare gruppo da outsider in obos e da lì è partito il tutto e tutto l'immaginario della band una cosa di amicizia e sempre per rimanere sul tema super quark in un certo senso il vostro sound la vostra impronta musicale risente dal mio parere molto di un certo death metal non lo so al obituari però ogni tanto molte tracce traspare un po questa impronta rock addirittura blues che in particolare nel vostro ultimo disco nell'era dell'apparenza ogni tanto salta fuori questa cosa blues e io volevo un po chiedervi da dove nasce questa strana commistione di genere studiato che bello grazie lorenzo è stato uno dell'impronte blues dell'intro che sentite con sentite con con lo slide super cowboy è partito alla fine facciamo metal il metal è un'evoluzione del blues la comunità obo era blues abbiamo voluto anche un po riportare le sonorità un po più barboneggianti diciamo normalmente l'hardcore punk è molto fiorente quando parla e quando canta in italiano diversamente invece dal metal che invece un po si rifugia anche dietro la lingua inglese io volevo chiedervi proprio perché avete scelto di cantare in italiano se è una vostra urgenza espressiva o perché magari era la cosa più semplice per voi lo è scritto col vecchio gruppo scrivevo in inglese con gli obos ho voluto un punto scrivere in italiano anche se più difficile adattare anche la metrica al pezzo come perché con l'italiano con l'inglese molto più diretto però l'italiano arriva prima sicuramente al pubblico italiano siamo partiti proprio per per fare arrivare più diretti anche coi testi sono una parte una componente importante della band è una cosa trascurata spesso nei gruppi quindi per facilitare anche il messaggio è stata una scelta anche se all'inizio c'è stato un po di titubanza non erano tutti convinti alla fine è andata così è andata bene vorrevo chiedervi quale qual è come dal vostro punto di vista lo stato di salute per così dire della scena posto che scena è un termine che non usa quasi nessuno della scena metal e hardcore in italia e nella vostra zona ovvero venezia che ormai lo sappiamo bene tutti è particolarmente fiorente da questo punto di vista grazie a trivel grazie all'arcore al ben sar core e così via allora grazie ovviamente a trivel è rinato un po la scena qua in zona ovviamente ben sarco ora è l'evento principale per fortuna c'è sherwood che ci ospita purtroppo manca un po di continuità sul territorio dopo la pandemia c'è stato un po di chiusure posti diventato un po più difficile è cambiato un po adesso sta riprendendo adesso vediamo cosa succede io sono fiducioso però bisogna lavorarci secondo me fare roba che riparto dal basso i giovani ovviamente perché noi ormai abbiamo una certa però cominciamo verrà certa di parlo per me però se riparto le robe le cose dai ragazzi vedo gruppi di giovani che suonano una figata una soddisfazione vedere che c'è continuità già che riparto ancora di più più forte di prima ok prima di salutarvi giusto due domande su live di questa sera cosa ci farete ascoltare poi la domanda un po alla paolo fox i vostri lavori successivi se avete qualcosa in cantiere o siete un po fermi non so un po di gossip sulla vostra musica allora stasera suoniamo praticamente la scaletta in ordine cronologico quindi facciamo la roba più vecchia quella più nuova col fischio e per i prossimi lavori ma devo parlare solo io potete dire qualcosa che vuoi adesso facciamo gli ultimi concerti di abbiamo una domenica un paio ancora per quest'estate e però dobbiamo fare il disco nuovo che a manetta dobbiamo abbiamo già un po di pezzi pronti qualcosa di figo c'è già in cantiere basta chiuderlo e che lo diciamo da un po però facciamo una promessa stasera che lo facciamo presto dai